Cari pellegrini, una strofa del celebre canto «Quando nascette Ninno» di Sant'Alfonso Maria dei Rigori recita così, mi scuserete per questo dialetto napoletano certamente non perfetto, «Correttero i pasturi alla capanna, la trovaiono Maria con Giuseppe a gioia mia» ci si riferisce al bambino «e in chilo viso provaiono numorso e paradiso» che tradotto dal napoletano significa «Corsero i pasturi alla capanna e la trovarono Maria con Giuseppe e la gioia mia e in quel viso provarono, cioè gustarono un morso di paradiso». Ora cari pellegrini, soffermiamoci sul termine morso, cioè morso. Morso sta a significare boccone, ovvero un qualcosa che si gusta come antipasto. Ebbene, questa espressione alfonsiana ci presenta due importanti verità. La prima verità è che scegliendo Cristo noi già possiamo vivere un morso, cioè un anticipo di paradiso, già su questa terra. In che senso? Cari pellegrini, ce lo siamo detti tante volte. Non nel senso che la vita cristiana faccia sparire qualsiasi prova o sofferenza, tutt'altro, visto che poi il cristiano ha il compito di uniformarsi al Cristo crucifisso, bensì nel senso che la sofferenza che comunque ci tocca, con Cristo, acquista senso e quindi diventa alternativa a qualsiasi disperazione, cioè a qualsiasi assenza di speranza. Infatti ciò che ci sembra negativo alla luce di Dio non è tale. Viene da pensare a dei versi di Giovanni Pascoli nel suo La mia sera, quando lui scrive «O stanco dolore riposa, la nube del giorno più nera fu quello che vedo più rosa nell'ultima sera». Cioè noi cristiani abbiamo la possibilità, ovviamente Pascoli non fa un riferimento al cristianessimo, ma noi cristiani abbiamo la possibilità di trasformare la nube più nera in una nube rosa se viviamo con Cristo e se poniamo tutte le nostre angustie nel cuore sacratissimo di Gesù. La seconda verità che ci fa capire l'espressione alfonsiana da cui siamo partiti, cioè in quel viso provarono i pastori un morso di paradiso, è che la vita cristiana è gusto, è bellezza. Infatti il morso richiama l'assaporamento. La verità cattolica, come noi amiamo dire, come noi del cammino ai tre sentieri amiamo dire, è anche bellezza. Cristo va conosciuto, ma non per collocarlo all'interno di una serie di grandi maestri e pensatori, no. Cristo va conosciuto e bisogna conoscerlo, guai a crearsi un Cristo a proprio uso e consumo, ma bisogna conoscerlo per amarlo, appunto per gustarlo. Con Lui, solo con Lui, la vita si illumina di splendore. Ecco questa parola splendore, che è una parola a cui noi del cammino ai tre sentieri teniamo molto. Che cosa splende? Splende ciò che non ha in sé una luce propria, ma è capace di riflettere la luce che le viene donata. Lo splendore rende bello tutto, perché è quel luccichio che definisce e fa risaltare tutto, anche i dettagli più nascosti. Sì, anche i dettagli più nascosti. Diceva Santa Teresina che è bello pensare che anche facendo un piccolo ed insignificante gesto, come raccattare un ago da terra, se fatto per amore di Cristo, rimane scolpito nell'eternità in quella serie, cioè dei gesti santi. E quindi quel piccolissimo gesto diverrà nell'eternità più importante addirittura di qualsiasi gesto che il mondo avrà potuto ritenere eroico, ma fatto senza l'amore di Cristo. Con Gesù la vita di ognuno di noi può splendere. Dunque, ecco perché Sant'Alfonso dice che quando i pastori andarono alla capanna a scoprirlo nel viso di quel bambino, non morse paradiso. Ebbene, allora concludo, cari pellegrini, augurando a tutti voi un santo e quindi anche splendente, splendente Natale.